ciao a tutti come state eccoci di nuovo in un altro video più easy ecco uno di quei video più tranquilli che carico ogni tanto in cui mi piace appunto parlare con voi oggi voglio appunto ringraziare una persona una persona che mi ha aiutato diciamo in questo mio percorso da youtuber dai mi piace considerarmi così su come chi mi conosce già saprà e da tanto che faccio video dai proprio adesso devi iscrivermi però chi mi conosce già lo sa io da tanto tempo faccio video e vabbè prima mi dedicavo di più all'intrattenimento ora invece sto cercando di fare qualcosa di più utile per le altre persone e giustamente quando arrivi in un mondo così è difficile a primo impatto riuscire a suscitare l'interesse delle persone e devo ammettere che una persona mi ha dato una grande mano in questo questa persona è massimo taramasco che anche lui tratta temi simili ai miei questo video appunto l'ho fatto per ringraziare massimo perché fin dalla prima volta che mi ha visto mi ha subito dato un sacco di consigli mi ha fatto un sacco di complimenti inoltre ha parlato benissimo di me in tantissime sue live io quindi ti lascio il link dei canali di massimo ne ha ben due questi qua mi raccomando vai a dare un'occhiata ai suoi video iscriviti ai suoi canali e ascolti i suoi consigli perché è una persona che ne sa davvero tanto io quindi per oggi ho finito ti ricordo che se ti va puoi iscriverti al mio canale per non perderti nessun video e inoltre seguimi su instagram mi farebbe molto piacere ah e se ti va magari di sapere qualcosa in più riguardo appunto questa mia passione dei video come faccio video da dove sono partito eccetera eccetera fammelo sapere qui sotto nei commenti quindi per oggi è tutto e noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao